Approvata la variazione di bilancio, via liberal DDL da 66 milioni di euro. Vittime della strada, un minuto di silenzio in aula. In arrivo centinaia di milioni per il rinnovo degli edifici scolastici. Nuova edizione di Consiglio News, bentrovati via libera dell'Assemblea alla variazione di bilancio. L'aula ha approvato il provvedimento e 12 ordini del giorno collegati. Approvata a maggioranza la variazione di bilancio 2022-2024, la manovra, portata in aula dall'assessore Andrea Tronzano, si attesta in conclusione a 66 milioni di euro complessivi sui circa 19 miliardi totali del bilancio piemontese. La somma comprende anche i 9,9 milioni risparmiati dal Consiglio regionale introdotti con un emendamento a prima firma del presidente Stefano Allasia. Inizialmente la variazione era pari a 44 milioni. Alle cifre totali va aggiunta anche la possibilità di accendere mutui fino a 30 milioni per la progettazione di nuovi ospedali, inserita con un emendamento dell'esecutivo. Siamo contenti di poter dire ai cittadini piemontesi che continuiamo a lavorare per loro mettendo risorse senza aumentare le tasse e continuando a diminuire il disavanzo. Tra le manovre che il documento prevede ci sono 200 mila euro per le associazioni fondiarie, 3,2 milioni per coprire interamente le borse di studio, 2 milioni per l'assegno di studio per trasporti e libri, 1 milione per le scuole paritarie, 7,3 per l'integrazione delle risorse necessarie a finanziare i nuovi contratti in sanità con la stabilizzazione dei lavoratori assunti a tempo determinato per l'emergenza Covid. 1 milione poi va al Fondo regionale disabilità e 3 milioni per un aiuto alle piccole e medie imprese rispetto al caro energia pur essendo una questione che può essere affrontata soltanto a livello nazionale ed europeo. Una variazione di bilancio che vede ancora una volta questa maggioranza e questa giunta a guardare gli interessi dei piemontesi, una variazione dove andiamo a incidere in maniera importante sulla disabilità, 1 milione di euro messe sui disabili, 3 milioni di euro per le imprese e sul caro energia, senza tralasciare i territori. Rileviamo delle mancanze, delle mancanze per andare incontro alle criticità nate dall'aumento dei costi energetici, questo per le famiglie, per le imprese, io ho sottolineato in modo particolare per le imprese dello sci che sono energivore per definizione. Riduciamo di 322 milioni il debito che abbiamo ereditato dal passato e questo è sicuramente per le finanze regionali un buon risultato, ma poi andiamo anche a vantaggio delle scuole, delle imprese in crisi. Abbiamo evidenziato alcune criticità come quelle relative all'edilizia sanitaria, ma soprattutto quelle relative alle spese che le famiglie devono affrontare in questo periodo di grave crisi, come le spese scolastiche. Su questo punto continuiamo a non ricevere risposte da parte dell'assessorato al bilancio. Approvati anche 12 atti di indirizzo collegati al disegno di legge sulla variazione di bilancio presentati da Andrea Cane, Lega, Mauro Fava, Forza Italia, Diego Sarno e Monica Canali, Spartito Democratico, Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle, Silvio Magliano, Moderati e Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre. Un minuto di silenzio in aula per le vittime della strada. Il Presidente all'Asia, a nome del Comitato Diritti Umani, ha anche manifestato solidarietà al popolo polacco. Alla vigilia della giornata mondiale, che si celebra domenica 20 novembre, l'Aula ha ricordato con un minuto di silenzio le vittime della strada. Un'occasione, ha sottolineato in aula il Presidente dell'Assemblea Stefano all'Asia, per sollecitare le istituzioni a promuovere ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale. Secondo quanto riferito recentemente dalla Commissione europea nel 2021, le vittime della strada in Europa sono aumentate. Quasi 20.000 persone hanno perso la vita, il tasso è cresciuto del 6% rispetto al 2020, pur restando inferiore a livelli pre-pandemia. Un dato parzialmente confortante registra il nostro Piemonte, qui il tasso di mortalità è sceso a più della media nazionale, secondo gli ultimi dati sempre riferiti al 2021. Tra i comportamenti errati alla guida, ha aggiunto all'Asia, i più frequenti si confermano la distrazione, il mancato rispetto delle precedenze e la velocità elevata. A nome del Comitato Regionale per i Diritti Umani e Civili, il presidente all'Asia, ha poi espresso profondo cordoglio e solidarietà al governo e al popolo polacco, manifestando fortissima apprensione e preoccupazione per quanto accaduto martedì scorso in Polonia, un'ulteriore conferma della gravità e delle conseguenze di una guerra che da mesi sta sconvolgendo l'Europa. Centinaia di milioni sono in arrivo tramite il Piano Nazionale di Riprese e Resilienza per il rinnovo delle strutture scolastiche del Piemonte. Sono 45 i casi di crollo registrati negli istituti italiani di vario ordine e grado fra settembre 2021 e agosto 2022, un episodio ogni quattro giorni di scuola. Di questi, 19 sono i crolli avvenuti nelle regioni del nord, 10 nel centro Italia e 16 al sud. Il 42% degli istituti è stato costruito prima del 1976. Questi, i dati forniti dal capogruppo dei moderati Silvio Magliano, nell'ambito del question time durante il quale ha interrogato l'assessore all'istruzione Elena Chiorino per sapere con quali modalità, tempistiche e risorse la regione intenda salvaguardare l'incolumità degli studenti e garantire maggior sicurezza nelle scuole piemontesi. Nell'ambito del PNRR, il Ministero dell'Istruzione ha bandito quattro linee di intervento in materia di edilizia scolastica, specifica in una nota a Chiorino. Al Piemonte saranno destinati 43 milioni per la costruzione di nuove scuole, 128 milioni per asili nido e scuole d'infanzia, 12 milioni per potenziamento infrastrutture per sport a scuola e 16 milioni per gli interventi in materia di mense. Nel bilancio 2022-2024, ha concluso la nota dell'assessore Chiorino, è confermato un milione di euro previsto per gli interventi straordinari e urgenti che verranno assegnati a fronte di specifiche richieste. Corteo in centro a Torino a sostegno delle donne iraniane. La vicepresidente del Comitato regionale per i diritti umani e civili, Sara Zambaia, è intervenuta alla manifestazione Donna Vita e Libertà, organizzata in piazza Solferino a Torino per portare solidarietà alle donne iraniane contro la repressione messe in atto dal governo, a due mesi dall'uccisione di Masa Amini, la 22enne iraniana deceduta mentre si trovava sotto la custodia della polizia dopo essere stata fermata perché non indossava correttamente il velo. Il corteo è stato organizzato dalla comunità iraniana di Torino. Da parte nostra indubbiamente è la vicinanza delle istituzioni, la vicinanza del Comitato regionale per i diritti umani. Come Consiglio regionale siamo attivi, già da settimana abbiamo approvato tre importanti ordini del giorno, siamo per far partire assieme alla consulta femminile una rassegna cinematografica che sarà presente in tutte le province del Piemonte, quindi si tratta di otto appuntamenti importanti perché come sempre, tutte le volte che ci sono delle grandi crisi sociali e umanitarie, il Comitato per i diritti umani è assolutamente presente. È esposta fino al 10 dicembre nelle vetrine dell'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale del Piemonte in via Arsenale 14 a Torino la mostra fotografica a regola d'arte, pietre, persone e paesaggio in alta langa realizzata dal collettivo di fotografi del progetto Melanga dell'Ordine dei Cavalieri delle Langhe APS. L'esposizione, promossa dal Consiglio regionale, è dedicata al paesaggio terrazzato e all'arte della costruzione con pietra secco. Il territorio dell'alta langa, composto da 51 comuni, comprende numerose costruzioni create con questa tecnica, tanto da potersi considerare una sorta di museo a cielo aperto. Un patrimonio architettonico, storico e culturale da preservare e promuovere. Per questo, nel 2018, l'UNESCO ha inserito l'arte della costruzione in pietra secco nella lista del patrimonio immateriale dell'umanità. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi, ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS